Qualche cenno l'abbiamo già sentito, una diocesi che nasce nel 1110 per l'esattezza, trasferendo la sede qui di un'altra diocesi che è quella di Malamocco. Come mai? Che cosa è successo? È successo che Malamocco è stata praticamente la mamma di Venezia, una delle entità locali che ha preceduto Venezia. Poi quando Venezia ha preso potere e potenza diventava un po' squilibrato e serviva piuttosto avere una reggenza, un punto di riferimento importante sia religioso che anche politico, più a sud, dove in realtà c'era un'espansione territoriale anche da parte delle famiglie patrizie. Difatti una delle curiosità che può capitare di vedere per chi va viaggiando, perché la nostra diocesi comprende sia il comune di Chioggia, quello di Cavalzare, di Loreo, parte delle frazioni che fanno capo al comune di Adria, ma dopo in blocco tutto il Polesine. Il Polesine praticamente era la zona in cui c'erano i poderi vallivi o agricoli delle famiglie patrizie. Di fatto alcuni nomi ancora ce lo ricordano, ad esempio c'è Contarina, Catiepolo, Cagrimani, Calabia, tutte queste Camorosini, Caccappello, Cazzugliani, Pettorazza, Papa Fava, oppure Grebani, tutti questi Cavenier, sono tutti nomi di patrizi veneziani che avevano i loro poteri. Certo è che si spostano appunto, ma pensate come questa storia religiosa si intreccia con la storia civile, con la storia di queste nostre terre. E' una lettura molto grossolana, molto rapida. Pensiamo, la chiesa da Quarto D'Altino si trasferisce a Torcello, a Torcello nasce e nasce la diocesi, quella che era un po' la diocesi di Venezia all'epoca. Da Torcello poi si sviluppa in realtà Venezia e tutto si trasferisce su Venezia. Sono invece da Aquileia, Garato, Metamauco e Chioggia. Quindi c'è questo sviluppo molto particolare che è molto segnato dalle vicende religiose di queste terre. Difatti c'è una coincidenza fra l'avvento delle reliquie di San Felice Portunato, quindi dei patroni della città e anche la nascita della città di Chioggia. Difatti è una mistura medievale forse, che però ha una coincidenza molto. Nei primi quadri civili che troviamo nel Palazzo Pretorio, troviamo proprio la giustizia e San Felice Portunato. Quindi questi santi, oppure la Madonna di Marina e San Felice Portunato, ma non in chiesa, nel Palazzo Pretorio. Quindi ha anche una valenza di carattere politico, come autonomia e identità autonoma della comunità. Più avanti parleremo anche di questi due martiri le cui spoglie si trovano curiosamente in queste due città. Equamente divise. Equamente divise tra l'altro e con la testa dell'uno e il corpo dell'altro a Vicenza e viceversa per quello che riguarda Chioggia. A Chioggia le loro reliquie si trovano all'interno della cattedrale, mentre a Vicenza c'è una basilica che resta con questo nome, molto antica, che è sulla via Postumia, tra l'altro in un pezzetto di quel tracciato, una basilica che è dedicata proprio a questi due santi. Dunque, noi abbiamo sentito poco fa il direttore del settimanale diocesano di Chioggia, la nuova scintilla, Don Vicenza Tosello, che accennava a dei riferimenti pastorali legati al vescovo Angelo Daniel, che tra l'altro vedremo tra poco qui presente insieme al nuovo vescovo di Chioggia, che ha dato le dimissioni, ricordiamo, per raggiunti i limiti di età in gennaio. Mirko Cavallin lo ha incontrato proprio per tracciare un po' una rapidissima sintesi di quello che è stato un episcopato che si è fermato con lui e che adesso continua con un altro vescovo. Sentiamo. A proposito di preghiera, io l'11 di gennaio, salutando un po' e pregando insieme con le persone che sono venute in cattedrale da parte delle varie parochre diocesi, ho avuto la possibilità, la gioia di poter affidare un librettino di preghiere intitolato Preghiere nel cammino, che avevo buttato giù in circostanze diverse e poi le ho messe insieme alcune. Fra queste ce n'è una che ho aggiunto appunto apposta per il pastore della diocesi. mi pareva giusto e bello che ci si trovassi insieme a pregare per questo compito e per chi lo assumerà. Dice così il Signore Gesù, tu che hai chiamato gli apostoli perché stessero con te e mandali nel mondo, benedici il Vescovo che hai scelto per noi e accompagnano nel suo ministero. Fa che sia animato dal tuo spirito di sapienza, di fortezza e di bontà. Ci aiuti ad aprirsi ai poveri, agli ultimi, alla dimensione missionaria della Chiesa. Non abbia mai a sentirsi solo, ma sia sempre sostenuto dalla solidarietà, collaborazione e preghiera di quanti li sono affidati. Nei momenti facili, anche nelle ore difficili, donali la serena fiducia che viene dalla grazia del mandato ricevuto e dalla certezza della tua risurrezione. In tutti i giorni del suo servizio pastorale in mezzo a noi concedili di essere portatori di fede, di coraggio e di pace, seminatore di speranza. Ecco, Monsignor Angelo Daniel che ora è ritornato nella sua terra televisiana di origine ma che oggi, e lo vedremo tra poco all'inizio della celebrazione che è prevista tra pochi minuti qui alla cattedrale di Santa Maria Assunta di Chioggia. Abbiamo sentito quella preghiera anche toccante. Allora non sapeva chi potesse essere il nuovo vescovo di Chioggia ma già, diciamo, anche con queste parole, con questa sua preghiera che gli ha dedicato ha tracciato comunque dei riferimenti anche importanti per quello che potrebbe essere e che dovrebbe essere la sua azione pastorale. Non abbiamo sentito, perché è iniziato un po' tutto prima del previsto, l'intervento del sindaco di Chioggia che comunque è stato particolarmente significativo. Noi lo abbiamo sentito proprio domenica alla consacrazione di Monsignor Adriano Tesserollo a Vicenza e gli abbiamo chiesto appunto che tipo di vescovo, che vescovo, che episcopato si aspetta Chioggia. Quali sono i temi più importanti dal punto di vista della città, anche dal punto di vista civile che vorrebbe che un vescovo, che questo vescovo, toccasse con il suo episcopato. Vediamo allora questa intervista che abbiamo realizzato domenica a Chioggia. Campane a festa per la diocesi di Vicenza, ma sono campane a festa anche per la città, la diocesi, il territorio di Chioggia. Signor sindaco, che vescovo si aspetta a questa città? Noi aspettiamo un vescovo che sia un pastore, una figura di guida per la nostra città, una figura di riferimento per i giovani in particolare e soprattutto una persona che ci sia di testimonianza dei valori, delle tradizioni che a Chioggia ci sono, che sono profondamente umane e cristiane. Se c'è un elemento di Chioggia da cambiare, in che cosa lo dovrebbe cambiare questo vescovo? La presenza perlomeno di questo vescovo, la sua opera, la sua iniziativa pastorale? Io credo che un vescovo nuovo si presenti con la sua umanità e noi, le persone profondamente umane, credo che i nostri cittadini sappiano seguirle.